Il nome del Padre e del Figlio dello Spirito Santo, Pagano, preghiamo con il Signore Cenzino, Padre Nostro che sei nascita, che s'ha diventato il tuo nome e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, con il Signore sincero, grazie oggi il nostro Padre quotidiano e venite a noi in altri debiti, come noi ne chiamiamo i nostri debitori, e non ci un'unica sensazione, ma non ci chiamiamo la reata. Pregiamo, Dio mi potente d'Eterno che ci dai il reggio di chiamarti Padre, che fa crescere in noi ospite, e gli adottivi per entrare in un carico del cielo adesso. Ascolto, Signore, la nostra preghiera, che i levi e la beata Regine e i moriti tutti i santi concedi a nostri fratelli dei figli e riposi la pace eterna, per Cristo nostro Signore. Amén. Di nuovo a me, Grazie a tutti. Sebastiano Della Gatta e Carlo Fusco per il loro progetto e tutta la cittadinanza. Noi del Comitato siamo nati due anni fa, abbiamo intrapreso un percorso sperando che non ci fermeremo mai, realizzando due feste nel periodo estivo per Glicignano. Abbiamo fatto sì che oggi ci troviamo qua, con il ricavato delle feste abbiamo realizzato questa rampa. Niente, questo volevo dire.